Eccomi mortali! Che ci fai qui, Tarantos? Si chiama Thanos. Tanius. Thanos, senza la I. Sembra tanto la cosa. Anche a me sembra la cosa. Com'è che si chiama la cosa? La cosa e basta. È Thanos, il titano distruttore. È la cosa. Ognuno la vede come vuole. Il mio nome è Thanos. Visto, idioti, è Thanos. O è la cosa che vuole farci uno scherzo? Che sia Loki trasformato in cosa. Non è Loki. Anche tu potresti essere Loki. Loki che protegge la cosa che vuole farci uno scherzo. Tipico del dio degli scherzi. Non sono Loki. È esattamente quello che direbbe Loki. Non ci freghi, Loki. Sto cercando le pietre dell'infinito. Non avrai mai le pietre dell'infinito. Cosa sono le pietre dell'infinito? Non lo so, ma non le avrà di certo. Scusa, magari gli servono a fin di bene. O sta facendo la collezione. È un mostro, vorrà distruggere cose slash uccidere persone. Che razzista. Seriamente, è un po' razzista. Ha un nome che significa morte. Cosa volete che faccia? Insiste. Chi è il vero mostro fra voi due? Io proprio non lo so. Verissimo, bravo. Metto like. Voglio distruggere metà dell'universo. Ecco. Visto? Sì, adesso non casarti troppo. Beh, certo. Allora non gliele diamo, giusto? No, se vuole distruggere metà dell'universo io non gliele darei. No, appunto. Neanche io. Certo che non gliele diamo. Capito? Non te le diamo. È questa la vostra scelta? È questa la nostra scelta? Per me sì. Sì, anche per me. È questa la nostra scelta. Non ti daremo mai le pietre dell'infinito. E poi sei stupido. Non te le daremo, Tanios. Allora è deciso. Scusate per il disturbo. E grazie lo stesso. Bel lavoro, ragazzi. Bravi, come sempre. Io gliele avrei anche date, ma ehi, non per distruggere l'universo. No, per distruggere l'universo no. In realtà sono Loki. Non importa nessuno.